Ieri abbiamo ascoltato di questo nuovo documento, quello dell'elettor maggiore che ci invita a comprendere sempre più cosa significa lavorare nel sociale. Abbiamo il tema grande, soprattutto nel mondo sociale, della corresponsabilità tra salesiani e laici, con laici sempre più qualificati, con competenze specifiche rispetto agli ambiti di intervento e quindi abbiamo ipotizzato oggi di fare un panel invitando Don Fabio, Don Rafael e poi tre presidenti delle associazioni legate al CNOS, quindi il CGS, il TGS e la PGS. Poi sarà Renato a presentarvi i nostri interlocutori. Nella seconda parte della mattinata cercheremo di radunarci per territori per approfondire ancora una volta, a luce di quello che abbiamo ascoltato, del dialogo e del confronto, il documento che avete appunto nella vostra borsa che organizziamo la speranza. Dopodiché pausa pranzo, nel pomeriggio abbiamo ancora una volta un confronto ulteriore per capire ancora come poter procedere rispetto a questo documento e poi nella seconda parte, e quindi questo sarà interessante perché coinvolgeremo i giovani, metteremo al centro loro e quindi è interessante anche la loro visione, la loro parola e poi concluderemo con questa parte della giornata con la presentazione del bilancio sociale, della relazione di missione e del bilancio consuntivo e preventivo che sono i tipici documenti dell'assemblea che ovviamente convochiamo. Ecco quindi io vi ringrazio ancora di questa bella partecipazione, vi chiederei molta attenzione e anche capacità di intervento, è anche un dialogo franco, sereno con belle persone che adesso Renato presenterà e allora auguro a tutti voi una buona giornata. Grazie Don Francesco, di nuovo buongiorno a tutte le persone in sala e a quelle collegate in streaming, io direi di iniziare proprio accogliendo anche con un bel applauso le persone che adesso chiamo qui sul palco, i nostri amici panelist, quindi padre Raffaele Beccarano, Cristiano Tanas, Lorenzo Napoli, Don Fabio Attard e salutiamo anche Ciro Bisogno, presidente delle polisportive giovanili salesiane che invece si collega da remoto, buongiorno Ciro. Buongiorno a tutti. Non ti sentiamo ancora? Aspetta che provo a... Eccoti. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì Ciro, grazie, buongiorno a te. Grazie a voi, grazie a te Renato, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora inizio presentando te Ciro, presidente dicevo delle polisportive giovanili salesiane che da quest'anno, 2023, sono ufficialmente soci di Salesiani per il sociale, quindi questa rete associativa che unisce sport, educazione, sport e sociale che entra appunto nella rete associativa di Salesiani per il sociale in questa famiglia che siamo oggi qui riuniti. Qui alla mia sinistra Cristiano Tanas, presidente dei Cinecircoli, giovanili socioculturali, grazie Cristiano per essere qui con noi oggi. Lorenzo Napoli, presidente del turismo giovanile e sociale, insieme a CGS, TGS, dal 2022 sono ufficialmente soci di Salesiani per il sociale, quindi avete preceduto Ciro e le PGS nel entrare ufficialmente a far parte di questa rete associativa. Poi abbiamo padre Raffaele Beccarano che abbiamo già conosciuto ieri, ma anche nell'assemblea di settembre scorso, se ricordate, e negli incontri territoriali. Grazie ancora padre Raffaele per l'alexio di ieri pomeriggio, per l'omelia di questa mattina e grazie anche per il tuo servizio che ricordiamo. È un servizio mondiale perché padre Raffaele, originario della Colombia, dalla provincia e spettoria di Medellini in Colombia, da tre anni ormai compiuti, si trova nel dicastero per la pastorale giovanile salesiana con il compito di animare questo ambito, questo settore delle opere sociali e servizi sociali per i giovani ad alto rischio della pastorale giovanile salesiana di tutto il mondo. Abbiamo il privilegio di averlo qui in Italia la maggior parte del tempo e quindi ci può accompagnare e l'ha fatto con molta dedizione in questi mesi. E salutiamo Don Fabio Attard che tra l'altro da tre anni anche Don Fabio è il nostro vicino anche proprio di sede nazionale perché da tre anni Don Fabio è coordinatore del Don Bosco Formation, una realtà voluta dall'ultimo capitolo generale della congregazione dei salesiani di Don Bosco di cui ci racconterà Don Fabio. A Don Fabio è stato anche per 12 anni, per due mandati, consigliere generale della pastorale giovanile salesiana e quindi anche lui sarà in grado di offrirci uno sguardo ora più centrato sul continente europeo ma la sua è una prospettiva mondiale, internazionale e di chiesa universale. Quindi come vedete abbiamo un panel molto qualificato ma non possiamo prescindere dal vostro contributo. Perché? Perché grazie alla regia adesso vi proietterò quello che voi potete trovare sui vostri smartphone andando sull'indirizzo www.menti.com vi chiedo questo favore perché capite bene che qui abbiamo una grandissima esperienza e una grandissima ricchezza sul palco ma ci manca qualcosa. Ci manca il contributo di tutti voi in particolare un contributo giovanile, un contributo femminile per completare quello che ci manca qui sul palco. Quindi vi prego di rispondere a questa domanda con massimo tre parole. Avete capito da quello che ci raccontava prima Don Francesco se ieri abbiamo parlato di costruire solidarietà. Qual è però il titolo, il tema di questa assemblea nazionale. L'assemblea nazionale è costruiamo comunità solidali. Allora oggi ci concentriamo su questa parola centrale, comunità. Come potete fare? In alto leggete questo codice che io vi leggo per chi non riesce a leggere le cifre. Il codice è 46627759. Se entrate su menti.com vi chiede di inserire un codice, voi potete scrivere 46627759. Con questo codice vi apparirà questa domanda. La domanda è CEP e opere sociali salesiane. Quali parole o frasi colleghi a questo tema? E potete farlo con massimo tre parole. CEP, come ascolteremo tra poco, è uno dei tanti acronimi del mondo sociale salesiano e sta per comunità educative pastorali. Questo per tutti coloro che fossero nuovi a questo acronimo. Ecco, grazie per queste parole. Possiamo leggere al centro accoglienza. Significa che più di una persona l'ha digitata. Quindi quelle che vedete più grandi sono le parole che sono state digitate di più in questo cloud. Accoglienza ma anche collaborazione, rete, corresponsabilità, corresponsabilità educativa, ha scritto qualcuno, sinodalità, comunione, incontro, innovazione, casa, missione, famiglia, sinergia, comunione, rete, ragazzi. Ecco, tante parole. Grazie davvero perché vi vedo molto reattivi e ci tengo perché non vuole essere un discorso unilaterale ma vuole essere un dialogo, una polifonia e con questo input ci aiutate a partire perché anche i nostri ospiti si sono preparati ma per loro è importante sapere che tonalità, che colore associate a queste parole comunità educativa pastorale e opere sociali salesiane. Grazie. Torneremo a fare questo esercizio più tardi, quindi state pronti, state svegli. Iniziamo, allora mi siedo finalmente anch'io e lascio adesso la parola, partiamo proprio da padre Raffael che avete conosciuto anche come una persona molto umile e io ve l'ho presentato come il membro di un organo internazionale, però ci tengo anche a ricordare padre Raffael, Raffa va bene Raffa, ci tengo anche a ricordare che la tua è una storia molto vicina a tutti noi e soprattutto a chi è qui in sala o collegato in streaming che vive nel quotidiano il quotidiano di un'opera locale, sociale, perché Raffa sei stato direttore per tanti anni di una comunità salesiana Medellin che accompagna e continua a accompagnare in collaborazione con le istituzioni e col governo della Colombia, quei ragazzi e quelle ragazze che escono dalla realtà della guerriglia, che purtroppo quello della guerra civile è un tema molto forte in Colombia che magari non viviamo allo stesso modo in Italia, però credo che tante delle nostre realtà in Italia si trovano a vivere situazioni con i ragazzi e le ragazze come hai vissuto anche tu, quindi mi piace anche raccontarlo adesso a chi ti ascolta ora che ci offri una prospettiva internazionale a partire però anche da un vissuto del quotidiano e del locale. La domanda che rivolgo a te e poi rivolgerò anche agli altri amici qua sul palco e a Ciro che è collegato è questa, rispetto a questo tema comunità educative pastorali e opere sociali salesiane, quali sono le sfide che vedi, che accompagni e quali sono invece le opportunità, anche alla luce di quel congresso internazionale che abbiamo celebrato a settembre di cui stiamo parlando e raccontando e della lettera che il rettor maggiore ha consegnato alla congregazione su questo tema. Grazie. Grazie a te Renato. Un'altra volta buongiorno a tutti e a tutte. Sono molto contento di partecipare in questa assemblea ma anche molto onorato di stare qua tra di voi, questi compagni del panel ma soprattutto di Fabio che lo considero il mio maestro e amico in questo percorso dell'accompagnamento della passione pastorale. Bene, prima di dire quale sarebbero queste sfide e le opportunità che abbiamo nella congregazione partendo dal concetto di CEP e riferito alle opere sociali, devo ricordare che la congregazione ha fatto una strada grandissima per arrivare a questo concetto che diciamo è un concetto costruito, non è qualcosa che è stata definita in una scrivania nella Casa Generalizia. È stato un processo collegiale sinodale. Per non andare molto tempo indietro, devo ricordare soltanto che la nostra congregazione è nata come un'opera sociale, che Don Bosco è uno dei santi sociali non soltanto di Torino ma di tutta la Chiesa e che questa è la nostra eredità come salesiani e come famiglia salesiana e che noi lavoriamo con questa passione apostolica e con questa intelligenza sua pastorale. Dopo negli ultimi 30 anni dobbiamo ricordare che la congregazione ha preso cura di una maniera diciamo molto più impegnata delle opere sociali. Allora abbiamo avuto per iniziativa dei rettori maggiori ma soprattutto di Don Vecchi, Don Domenec al suo momento, già un'iniziativa di un grande incontro che si è svolto a Roma nel 1998, chiamato il Meeting di Roma e che ha riflettuto sui ragazzi di strada. Diciamo con questo termine ha chiamato questo lavoro che si faceva intorno a tutte queste opere sociali che anche nella congregazione diciamo si configuravano già come un settore molto importante ma che ancora aveva la sfida di costruire di una maniera molto più forte la sua identità. Dopo nel 2009 abbiamo avuto la riflessione su sistema preventivo e diritti umani. Lì abbiamo capito come congregazione che è con questo focus che dobbiamo camminare perché i diritti umani sono il nuovo nome diciamo evangelico del lavoro per la dignità delle persone. Nel 2014 sotto la guida di Don Fabio il dicastero della pastorale giovanile ci ha offerto la rinnovazione del quadro di riferimento della pastorale giovanile e in questa nuova versione abbiamo già trovato in questo quadro di riferimento un'impostazione molto più concreta sul lavoro nelle opere sociali e se ci offrono l'elenco delle diverse opere delle diverse attività che noi abbiamo nella congregazione ma anche se ci offre l'opportunità di capire il settore delle opere dei servizi sociali per ragazzi a rischio come un processo di CEP e già si ci dice quali sono gli organi e gli strumenti per accompagnare come laici e salesiani questi processi con i giovani. Dopo nel 2019 abbiamo celebrato la grande consulta mondiale anche accompagnata da Don Fabio sulle opere sociali e lì abbiamo capito che il mondo del sociale è direttamente collegato come diceva in maniera magistrale ieri Don Marco al mondo della politica e al mondo della cooperazione internazionale allo sviluppo e abbiamo capito che il nostro lavoro che la nostra struttura nelle CEP come opere sociali doveva camminare verso il concetto che ci aveva già offerto Papa Francesco e il Magistero Sociale della Chiesa camminando verso lo sviluppo umano integrale e non dobbiamo dimenticare che Papa Francesco ha creato un specifico di castero con questo proposito nel Vaticano. Allora noi abbiamo celebrato questa decisione di Papa Francesco che è stata nel 2017 l'abbiamo già celebrata nel 2019 con questa grande consulta che abbiamo fatto perché abbiamo capito che era questa la strada che dovevamo percorrere che anche la Chiesa ci offriva l'opportunità di rispondere a una agenda concreta come organizzazione per poter agire in maniera molto più chiara. In questa grande consulta si ha riflettuto sulla necessità di coinvolgere tutti cioè tutte le ispettorie che rispettando il loro cammino sul sociale la propria identità ma anche le proprie risorse potevamo condividere e imparare gli uni dagli altri perché era evidente che se noi abbiamo come salesiani un grande lavoro abbiamo anche l'opportunità di lavorare in rete. Allora l'anno scorso ottobre abbiamo celebrato tutti insieme molti di voi avete partecipato questo bel congresso presieduto dal rettor maggiore che aveva già messo come quinta linea strategica strategica nel suo governo l'opzione del lavoro con i più poveri e anche trasversalizzata per questa opzione di un miglioramento istituzionale da offrire ai giovani e subito dopo il congresso il rettor maggiore ha presso questa esperienza e ha scritto e offerto a tutta la congregazione questa lettera. Questo percorso per finire soltanto è dire che le opzioni della congregazione che il rettor maggiore ha raccolto sorgono ripeto non come una decisione su una scrivania a Roma ma sulla raccolta di tutta l'esperienza di una congregazione che lavora per i più poveri in istituzioni e ci dice il rettor maggiore che dobbiamo lavorare soprattutto in tre grandi sfide la prima lavorare sull'identità delle nostre opere sociali noi siamo evangelizzatori noi dobbiamo capire che quando il papa il rettor maggiore ci dicono che noi non siamo una semplice ong non è per diciamo non non bantarsi di quello che anche noi dobbiamo fare come lavoratori sociali psicologi pedagogisti sociali eccetera che è un settore molto importante anche nel mondo è anche economico ma che dobbiamo capire che trasversale a tutto questo è la nostra scusa per evangelizzare tra i più poveri seconda sfida lavorare in rete voi in italia avete una bella rete questa salesiani per il sociale in ogni ispettoria siete 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 molto organizzati e anche abbiamo altre quattro grande reti nella congregazione abbiamo in india juta risk che anche dipende da un centro nazionale abbiamo in spagna plataformas sociali anche dipendente del centro nazionale e abbiamo in brasile e action social che anche dipende del centro nazionale insieme con le salesiane hanno un lavoro congiunto le nove ispettorie delle salesiane e le sei ispettorie dei salesiani e dopo abbiamo anche la ras rete america sociale salesiana che non dipende da un centro nazionale ma di due regioni america cono sud e interamerica dove 24 ispettorie lavorano insieme con delle indicatori comuni per misurare l'impatto sociale quale allora il reto la sfida in questo senso continuare a costruire reti interne nelle nella congregazione ma anche che ci possano far condividere l'esperienza nelle diverse nei diversi servizi che noi offriamo e terza sfida è quella di misurare insieme il nostro impatto sociale con il linguaggio e anche con una struttura è opportuna per offrire al mondo quello che noi facciamo come dicevo nell'omelia no come un bantarsi ma come l'opportunità di comunicare al mondo l'opera di dio e le opportunità continuare a lavorare con questi prodotti non soltanto sul locale dove si apprezza la nostra innovazione sociale ma anche sul livello nazionale dove ci siamo e sul livello internazionale perché abbiamo l'opportunità di lavorare sulle politiche pubbliche con una garanzia di un advocacy molto più forte in favore dei più poveri grazie raffaele grazie e adesso vedete in questo dialogo questa mattina alterneremo il punto di vista della congregazione quindi anche della vita consagrata con quello delle associazioni e della vita laicale sarà anche il tema poi del prossimo giro di domande e quindi adesso andiamo proprio sui territori italiani e cominciamo con Cristiano ricordo a chi è arrivato adesso che si è collegato adesso presidente dei cinecircoli giovanili socioculturali e a Cristiano chiedo allora come qual è il punto di vista ecco di un'associazione di ispirazione salesiana associata a Salesiani per il sociale su questo cioè come dialogano la C di comunità comunità educativo pastorale quella di CGS cinecircoli giovanili socioculturali prego Cristiano grazie Renato il primo elemento l'hai detto è la comunità per me la comunità che coinvolge in un clima di famiglia i giovani e gli adulti e meno giovani i genitori gli educatori però per clima di famiglia spesso pensiamo a qualcosa di idilliaco di fantastico tipo famiglia del mulino bianco dove vanno tutti d'accordo sorridenti la mattina in realtà anche come ci ricorda Papa Francesco non per forza ci dobbiamo piacere però ci dobbiamo voler bene quindi all'interno della famiglia si deve discutere si deve anche litigare sapendo che però abbiamo un obiettivo comune che il centro di tutto questo essere uniti nelle differenze quindi la prima il primo aspetto la prima sfida è creare degli ambienti e delle situazioni in cui tutti ci sentiamo a casa ci sentiamo accolti e in quanto ci sentiamo accolti siamo capaci anche di accogliere gli altri poi mi ha colpito nella lettera del rettor maggiore il passo in cui il passo evangelico che mette al centro della della lettera quello della resurrezione del figlio della vedova dove sottolinea alcuni concetti che per me sono fondamentali prima di tutto siamo noi che dobbiamo andare incontro all'altro per fare comunione il rettor maggiore sottolinea che gesù non rimane distante non sta tranquillo in mezzo ai suoi ai suoi seguaci e suoi discepoli cosa vuol dire per noi vuol dire che nei nostri ambienti non ce ne possiamo stare tranquilli nei nostri oratori nelle nostre realtà belle col cortile il porticato la stato di don bosco al centro andare oltre le nostre le nostre mura oltre le attività convenzionali a cui siamo abituati poi un altro passaggio riguarda la comunicazione il rettor maggiore dice finché c'è comunicazione tra le persone è possibile accompagnarle nel loro viaggio attraverso la vita questo per me è fondamentale perché dobbiamo tornare a parlare fra di noi quello che stiamo facendo tentando di fare anche nella rete associativa mettendo insieme realtà associative che sono ultra trentennali come salesiani per il sociale ma ultra cinquantennali come il cgs il tgs è quello intanto di parlare di non lavorare ognuno per conto suo e in questo tornare a parlare con i giovani che sono i destinatari che non sono solo i destinatari delle opere ma sono i protagonisti altrimenti facciamo dei progetti bellissimi in cui però non dialoghiamo poi sono delle scatole vuote poi il rettor maggiore ci dice di ritornare allo spirito di valdocco in un clima di fiducia reciproca in cui ognuno è tornato è invitato a contribuire con la propria specificità in questo io vedo un po una una grande criticità almeno in tanti ambienti che conosco in giro per l'italia da una parte diciamo che la forza come salesiani sta nel lasciarci aiutare e anche nell'imparare dagli altri questo lo dice lo scrive testualmente il rettor maggiore non possiamo fare del bene da soli dall'altra però la realtà non è sempre questa abbiamo ancora molti ambienti molti tutologi molti uomini soli o donne sole al comando e non parlo solo di salesiani consacrati parlo anche di di laici e spesso troviamo delle persone che non sono all'altezza sia spiritualmente che professionalmente magari abbiamo tante persone oneste brave disponibili che però non sono in grado di prendere decisioni di corresponsabilità o addirittura di coordinare delle opere allora il processo decisionale non è più condiviso come ci dice il rettor maggiore ma viene subito uno dice cosa si fa gli altri lo fanno quindi a mio avviso su questo bisogna fare uno sforzo in più questa è una sfida importante secondo me per la formazione di tutti salesiani e laici perché questo lavoro che anche si è avviato con con la creazione di db formation è importantissimo e soprattutto ci deve aiutare tutti anche all'interno delle associazioni a non continuare a scegliere i collaboratori fra chi ci fa più comodo perché dice sempre di sì e quindi non ci crea problemi io dico sempre che ogni volta facciamo un'assemblea dei soci ci deve essere qualcuno che dice no questo non va bene non sono d'accordo perché quando siamo troppa maggioranza rischiamo di perdere il senso anche il senso critico di quello che facciamo perché va tutto bene ci dicono tutti sì che bravi andate avanti così poi il rettor maggiore ci dice che nei diversi ambienti dobbiamo conoscere e abitare la cultura dei giovani questo tradotto non vuol dire che dobbiamo diventare tutti influencer o tiktoker ma che dobbiamo conoscere linguaggi e strumenti per entrare in comunicazione con i giovani noi come cgs da più di 25 anni partecipiamo al festival internazionale della cinematografia per ragazzi di giffoni che ha che ha più di 50 anni dove arrivano migliaia di ragazzi da tutto il mondo che si confrontano e valutano i film e su questo noi salesiani ci dobbiamo essere dobbiamo essere presenti in questi ambienti e da qui il concetto della dell'amicizia sociale l'ho scritto anche prima tra le paroline che è fondamentale in questo in questo periodo dobbiamo essere capaci di lavorare in rete con le persone che perseguono i nostri fini anche non tutti ma una parte dei nostri fini metterli in comune anche con ambienti laici con ambienti che non parlano esplicitamente di di evangelizzazione altrimenti tutto quello che noi cerchiamo di passare viene osteggiato perché viene da ambienti di chiesa invece dobbiamo essere come don bosco passare dentro e cambiare il corso delle cose se don bosco si fosse fermato perché il governo gli impediva di fare la congregazione noi non saremmo qui poi sottolineo finito due aspetti che ho letto nel documento organizzare la speranza in particolare cito don roberto dal molin che che dice la missione salesiana è quella ereditata da Don Bosco in cui non hanno spazio devozioni sciocche e facce tristi è fatta di presenza sacrificata tra i giovani esplorazione creativa per trovare percorsi nuovi sudore nell'organizzare attività concrete progetti da realizzare e fatture da pagare ecco di fatture siamo molto esperti non le magie però di fatture da pagare sì e poi che gli ambienti educativi sono molto più porosi di un tempo e si contagiano beneficamente a vicenda e questo vuol dire che non possiamo continuare a ragionare a compartimenti stanni anche nelle opere sociali dove giustamente dobbiamo vadare ai bisogni primari del ragazzo casa famiglia cibo istruzione dobbiamo pensare che quel ragazzo dovrà formarsi gli piacerà fare uno sport gli piacerà fare teatro gli piacerà guardare un film e quindi in questo dobbiamo lavorare insieme credo che in quest'ottica il contributo che possono dare le associazioni alle opere sociali non sia secondario perché spesso riusciamo ad agire con maggiore libertà e come dice il rettor maggiore imparare a essere liberi e sobri e a tradurre i nostri linguaggi religiosi in quelli delle società civili e impegnarci nei dialoghi necessari infatti le nostre attività devono contribuire a educare i ragazzi a vivere il proprio tempo libero attraverso la formazione artistico sportiva per la promozione della convivenza civile questo secondo me è importante sottolineare dal punto di vista delle associazioni grazie grazie cristiano bene bene grazie anche per questa risposta che ci tiene in dialogo anche con tutti voi anche con chi è collegato che sta continuando a scrivere alla prima domanda ho visto tante risposte grazie cristiano perché ha inaugurato adesso questo giro di contributi da parte dell'associazionismo di ispirazione salesiana in italia che ci ricorda che opere sociali salesiane e anche lavoro culturale si fa cultura con i cine circoli con il turismo giovanile salesiano anche quindi chiedo anche a lorenzo di raccontarci cosa significa per voi nel turismo giovanile salesiano comunità educative pastorale innanzitutto grazie per per l'invito cristiano io e cristiano ci conosciamo ormai da tanto tempo anche con giro conosco ora don rafael e il piacere e l'onore di stare nello stesso tavolo di di don fabio per cui da benissimo la stima che ho nei suoi nei suoi confronti e io ho scritto per rispondere alla domanda la parola rete si sente ok ho scritto la parola rete che un po' si collega a quello che prima prima dicevi prima dicevi tu rete sia a livello a livello nazionale ma anche a livello a livello locale a livello nazionale perché oggi noi come tgs insieme al cgs facciamo parte della rete associativa di salesiani per il sociale facciamo parte anche della della rete della della internazionale del don bosco del don bosco unit e e questo permette nei diversi nei diversi ambiti di riuscire a dare opportunità educative ai nostri ragazzi opportunità rispetto a partire dal dall'aiuto extra scolastico quando andiamo in in tante progettualità come contesto come connessi come insieme solo per citarne le ultime le ultime tre di dare opportunità lavorative a quei a quei giovani che molto spesso risulta essere anche la prima opportunità lavorativa quando escono dalla scuola quando finiscono la formazione all'università questo è un aspetto molto importante e anche dal punto invece di vista internazionale ci permette di di dare a una ventina di giovani durante durante l'anno quelle opportunità di poter conoscere le altre le altre culture vedere le altre esperienze all'interno dell'europa grazie appunto alla partecipazione all'interno del del don bosco della rete del don bosco unit e e quindi io proprio pensando alla alla domanda che ci ponevi anche a quello che diceva prima don rafael proprio la parola rete rete che anche importante a livello a livello locale non siamo delle isole a sé stanti quando sono stati quando sono state fondate le le associazioni è stato dato un un peso fondamentale al ruolo dei delegati conosce e delle delegate del del chocs quindi riferite alle figlie di mario asiliatrice e salisani ai salisani di don bosco che sono all'interno delle 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 associazioni sono all'interno dei dei consigli direttivi a livello locale a livello e a livello nazionale e quanto è importante appunto la collaborazione all'interno delle all'interno delle opere sociali perché altrimenti non esisterebbero non avrebbero non avrebbe senso 50 anni fa 55 anni fa la configurazione che gli sdp e le fma insieme ai ai laici hanno voluto dare all'aspetto all'aspetto associativo all'organizzazione associativa a livello a livello salesiano e appunto è importante lavorare in rete è difficile sicuramente lavorare in rete lo vediamo quando facciamo dei progetti in cui tante volte è bello fare progetti insieme ma anche la difficoltà di farli insieme perché il dialogo spesso risulta essere difficile come anche un po prima diceva diceva cristiano ma sta a noi essere responsabili di fare in modo che questo dialogo a livello a livello nazionale ma anche a livello locale possa possa continuare non c'è un futuro attualmente nella nella nostra nelle nostre congregazioni senza essere senza essere rete eh a livello politico a livello istituzionale a livello progettuale ehm e a livello educativo quindi quindi questo ci venevo a dire grazie grazie Lorenzo e verifichiamo subito se Ciro è ancora con noi Ciro mi senti sì ti sento ti sento eccoci qua allora coinvolgiamo anche te e ti chiediamo dato che eh sei diciamo eh arrivato con le polisportive giovanili salesiane da poco eh a entrare ufficialmente a far parte della rete di salesiani per il sociale ma eh lo sport salesiano ha una lunga storia eh e quindi eh penso che hai anche diciamo uno storico per rispondere a questa domanda cioè quanto lo sport eh dialoga e quali sono le sfide le opportunità dello sport salesiano e le comunità educative pastorali delle opere sociali salesiane prego Ciro grazie grazie Renato consentimi innanzitutto di di salutare tutti tutti coloro che sono presenti in sala e in particolar modo ci tenevo a salutare e ringraziare eh pubblicamente don don Roberto Dal Molin e don Francesco Preghe che hanno eh fortemente voluto ecco questo eh questo 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 ingresso all'interno dei salesiani per il sociale da parte delle polisportive giovanili salesiani hanno creduto che il dialogo fosse lo strumento migliore per per realizzare per realizzare rete quindi io eh davvero sono molto grato a don Roberto e a don Francesco ehm ma io quando penso alle polisportive giovanili salesiani innanzitutto penso a un piccolo miracolo un piccolo miracolo che è stato realizzato più di 50 anni fa eh proprio dalle dalle congregazioni oggi PGS per chi non lo sapesse è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI tra l'altro anche presente all'interno della giunta nazionale del CONI eh proprio perché è modello di riferimento per per la promozione sportiva italiana lo sport in Italia è organizzato da vari soggetti dalle federazioni dagli enti di promozione sportiva ecco noi siamo un una un'associazione nazionale riconosciuta dallo Stato quindi pensate che miracolo hanno eh realizzato le congregazioni più di 50 anni fa ehm e che ancora oggi continua in maniera in maniera forte in maniera molto molto determinata ecco io quando penso alle PGS penso a un cortile aperto Renato penso a un cortile aperto perché noi quotidianamente eh abbiamo come dire lavoriamo non soltanto con associazioni presenti all'interno di case eh e di opere ma lavoriamo con tantissime associazioni che provengono ovviamente dalle realtà del territorio e quindi per noi ogni giorno è un modo come dire è un contaminare continuo ehm e un costruire comunità continuamente attraverso ovviamente insomma lo stile quando penso a come ecco si possa coniugare eh il tutto come si possa coniugare pastorale giovanile con eh con la CEP con con i valori ovviamente insomma del sociale io penso che la parola identità eh sia quella che ci debba accompagnare quando eh prima i miei colleghi che saluto e ringrazio i presidenti delle del TGS e CGS e gli amici Cristiano e Lorenzo parlavano della necessità della rete come strumento di crescita e come opportunità io credo che eh le le reti per essere tali devono innanzitutto eh provare a a rendere protagonisti i soggetti che ne fanno parte e come e come parlare la stessa lingua parlare la stessa lingua attraverso come mettere a fattore comune quella che è la nostra identità è l'unico modo per poter eh come dire continuare ad operare prima Cristiano diceva con associazioni che abbiano comunque in tutto in parte le stesse finalità ecco in che modo attraverso ovviamente le eh la la nostra identità ehm io credo che la riforma del terzo settore abbia eh fatto riscoprire eh alle PGS quella che quello che è il suo significato fondamentale di sport sociale mi piace molto l'espressione utilizzata di di Don Bosco come prete sociale ecco io credo che eh davvero ehm tutto ad un tratto ci siamo scoperti non soltanto come organizzatori di campionati come ovviamente insomma come organizzatori di corsi di formazione per i dirigenti per gli educatori ma diciamo abbiamo riscoperto quello che ehm attraverso la riforma del terzo settore è quella connotazione fondamentale del nostro sport ossia l'essere sociale l'essere inclusivi oggi questa la parola inclusione va va molto di moda però ecco se pensiamo davvero che ehm al nostro sport come sport inclusivo ecco noi riusciamo a a costruire comunità una comunità che non esclude che ma che include che considera lo sport come uno strumento di di accoglienza uno strumento che combatta l'emarginazione combatta la povertà per cui dia la possibilità a tutti di fare sport e di crescere quindi non lasciando nessuno indietro io credo che noi abbiamo tra le mani una ricchezza importantissima una ricchezza soprattutto in un momento in cui ehm c'è un disorientamento culturale pazzesco eh nel nostro nel nostro paese io credo che le nostre associazioni la nostra rete possa davvero servire a come dire a a ad alimentare a e accendere riflettori su quelle che sono le problematiche fondamentali dei nostri territori dei nostri delle nostre periferie affinché davvero ecco non non veniamo considerate soltanto come eh delle erogatrici di servizi ma possiamo essere considerati come strumenti che costruiscono come dei mezzi che costruiscono comunità per cui ecco ehm a me piace molto pensare allo sport come eh come strumento di servizio ecco una ed è questo che come dire nonostante ehm le le difficoltà che attraversiamo quotidianamente perché lo sport davvero sta andando incontro a delle a degli appesantimenti burocratici incredibili prima si parlava di di produrre fatture no Cristiano faceva una battuta eh come dire che 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 insomma in soprattutto in ambito progettuale ci vede eh ci vede spesso sul come dire eh alla rincorsa eh però ecco ehm credo che davvero nonostante queste difficoltà noi non dobbiamo mai perdere di vista quella che è la nostra identità per cui costruiamo comunità facciamolo attraverso la nostra passione sporchiamoci continuiamoci continuiamo a sporcarci le mani a a come diceva Don Roberto a a a a vivere una vita anche di sacrificio ma eh lo facciamo per per un per l'interesse generale per un per un bene comune ma soprattutto per qualcosa che ci sta più a cuore che sono i nostri giovani grazie Ciro grazie torniamo presto di nuovo da te ma ora eh rivolgo questa domanda a Don Fabio Don Fabio che è originario di Malta precisamente di Gozzo dell'isola di Gozzo ma ha vissuto tanti anni in Italia e adesso dicevo è proprio qui nella sede a fianco alla sede nazionale di Salesiani per il sociale con questo ruolo di coordinatore del Don Bosco Formation che ha una vocazione europea per la formazione congiunta di Salesiani e laici allora Don Fabio che come ho raccontato prima anche uno sguardo eh mondiale ecclesiale e conosci bene l'Italia allora ti chiedo di raccontarci quali sono le sfide e le opportunità che vedi per le opere sociali Salesiani in Italia rispetto al tema della comunità educativo pastorale bene grazie per questa opportunità perché è un modo anche di prima di tutto di ascolto quando ci sono questi incontri magari uno viene con l'idea di dover dare o dire qualcosa credo che la cosa più bella è ecco l'ascolto ascolto di Lorenzo Cristiano di Raffa naturalmente ecco vorrei dire un pochettino Don Bosco Formation avete sentito la parola ma che cosa è questo? Quello che sta capitando in Europa è un laboratorio molto interessante perché in Europa abbiamo sei paesi che questo cammino che stiamo sperimentando noi oggi in questi giorni già va avanti da in alcuni paesi più di 50 anni fa abbiamo sei paesi con un centro nazionale questo qui in Italia c'è uno a Madrid centro nazionale Salesiano dei pastoral juvenil c'è uno a Portugallo c'è Sant Jean Bosco a Lione c'è Don Bosco del Belgio e poi c'è Benedict Boyer il che vuol dire che parlo solo dell'Europa per non parlare poi di Chito un centro che coordina due regioni che cosa sta ad indicare questo? Sta ad indicare tutto un cammino della congregazione che Raffaele in maniera molto sintetica molto precisa l'ha assunto la storia della congregazione dal dopo concilio fino adesso c'è grande attenzione a tutto il tema del coordinamento fare rete stiamo ascoltando fare rete ma dietro questa frase fare rete sta nascondendo anche tutta una realtà dove c'è grande voglia di approfondire il tema della identità che è la prima parola che ha detto Raffaele che è la prima parola che sta dicendo il rettor maggiore se noi stiamo facendo questo il motivo la ragione fondante l'identità nostra quale è e sapete cos'è il bello di questo che questa non è preoccupazione dei salesiani sdb questa è una preoccupazione di tutti coloro che si sentono e hanno accettato di essere coinvolte coinvolti nei processi pastorali il che vuol dire che ieri abbiamo sentito anche che andrea farina parlare tutto il tema della base partire dalla base questa restituzione del documento che è molto bello dirò qualcosa magari più tardi cosa sta capitando che c'è tutto un desiderio di non perdere l'identità di non perdere il carisma perché perché noi siamo nati così l'abbiamo sentito non sto qui a ripeterlo noi siamo nati con l'invito di conoscere la città io quando accompagno i partecipanti della scuola di accompagnamento spirituale salesiano quando arriviamo al don bosco che nel 41 va a torino il cafasso un uomo saggio santo lungimirante ha capito che qui c'è un ragazzo un giovane sacerdote che bisogna curarlo bene il cafasso non chiede a don bosco di organizzare partite di calcio neanche di organizzare il catechismo il cafasso a don bosco per detto vieni con me conosci la città sappiamo bene cosa scrive don bosco nelle memorie dell'oratorio quando si commuove davanti a queste ragazze se trovassero se avessero l'opportunità questo ci accompagna carissimi oggi sì ho avuto la grande grazia il grande dono di visitare parecchi paesi della congregazione questo dappertutto dappertutto e dove più povertà c'è sicuramente troverai salesiano accennato a raffaele che è a siudato un bosco no abbiamo dei salesiani dei laici delle laiche che stanno facendo un lavoro straordinario allora attenzione questa è la chiamata oggi ci stiamo sempre di più accorgendo che noi non possiamo portare avendo questo lavoro senza tutto il tema di essere insieme è una è un gruppo di persone una comunità che educa con il cuore del buon pastore la c'è per questa c'è una bellissima riflessione al quarto al quinto capitolo del quadro riferimento la c'è è il nostro modo di essere chiesa attenzione e dice ma fabio io non sono praticante ma questo non c'entra la chiesa che cosa è la chiesa e la comunità di coloro che si sentono chiamati a fare parte di una risposta di valori umani come spesso da gesù cristo allora guardate come il tema della c'è non è una dimensione tecnica ma è una identità del nostro essere se vogliamo veramente assumere l'eredità per tradurla è qui è il nostro grande lavoro oggi noi non siamo qui a fare fotocopie no noi siamo lì a riproporre il carisma che a noi è dato a tutte e tutti noi è dato siamo chiamati a essere il don bosco oggi ognuna e ognuno di noi ecco allora il tema della c'è bisogna affrontarlo non dal punto di vista meccanico funzionale perché lì già lì già partiamo con le ruote sgonfie senza freni è inutile avere il volante il tema della c'è bisogna guardarlo come visione come carisma come identità quello che noi siamo perché nella misura che lì ci siamo allora la domanda è bene adesso bene adesso andiamo andiamo all'ascolto dei giovani ma noi parliamo del peps il progetto di rio pastorale attenzione perché il peps è il nostro modo di fare discernimento come la nostra c'è il nostro modo di essere una comunità in sinodalità oggi tutta la nostra bocca sinodalità sinodo sinodo di qua e di là al mattino alla terra a cena a pranzo va bene ma noi da dall'inizio che stiamo parlando della sinodalità camminiamo insieme una comunità che educa esce per incontrare la pecorella smarrita la nostra sinodalità è la cep ed è questo molto interessante e per noi attenzione di non pensare che stiamo facendo due cammini paralleli no è una comunità che educa certo è una comunità che guarda che ascolta che abbia l'umiltà di uscire a ascoltare il peps il progetto di rio pastorale che cosa fa la prima fase riconoscere noi non andiamo lì come dei marines a portare risposte a domande che non abbiamo neanche capito no noi siamo dei servi umili che usciamo ad ascoltare a incontrare il povero là dove si trova non dove vogliamo che si trova e che cosa facciamo interpretiamo i bisogni non come un problema ma con un'opportunità e allora interpretiamo le sfide e poi poi facciamo delle scelte dal punto di vista umano dal punto di vista trascendentale dal punto di vista di esperienza di comunità di comunione si solidarietà affinché ogni ragazza ogni ragazzo trovi il suo progetto di vita sulle quattro dimensioni guardate allora che qui il tema della cep e non so di anno noi non interessa o calma perché il momento che tu mi dici ma noi la cep non interessa ognuno fa quello che può lo fa al meglio delle sue possibilità il prezzo non lo paghiamo noi eh lo pagano i poveri allora il tema della cep diventa un cardo una spina dorsale ma non è possibile ma voi vi rendete conto ma non è possibile che siamo in un'opera dove ogni ambiente è una repubblica indipendente ma dai ma dai abbiamo nella scuola prendiamo un esempio qui no abbiamo un liceo con dei ragazzi straordinari alla quarta alla quinta superiore che tu vedi che nei loro occhi stanno vedendo l'opportunità di essere disponibile ad aiutare hai un oratorio o hai una casa famiglia una grande opportunità per dire volete dare una mano e no perché noi non dialoghiamo la scuola non c'entra niente con noi ma amici miei ma questo non ci mette in crisi non ci mette in crisi che no qui comando io e beh allora è di quell'affermazione chi paga il prezzo allora vedete come la cep è una mentalità permettetemi che uso parole del cuore un cuore che esce che riconosce un cuore che interpreta e un cuore che risponde e insieme tutti abbiamo bisogno di essere insieme allora cosa capita poi il momento che ad intra noi formiamo comunità che io quell'altro lì non è un mio concorrente ma mio collaboratore la cep come atteggiamento ad intra diventa un atteggiamento ad extra allora la collaborazione con i soggetti attivi sul territorio io non voglio essere orgoglioso ma definitivamente sono felice e contento di essere salesiano e perché lo dico perché l'esperienza che abbiamo avuto che abbiamo non che abbiamo avuto che abbiamo a bruxelles col db ai nelle nazioni unite col db un quando ci presentiamo come salesiani con grande umiltà e è un po di modestia non guasta siamo umili qualche volta non siamo modesti quanto siamo lì con umiltà mi ricordo di racconto una piccola storia le relazioni a bruxelles c'era nel godina prima di entriamo in uno dei commissari dei commissari dell'unione europea io attualmente sono andato vestito col colletto tutto nero no entro e prima di sedermi dice qui non abbiamo soldi e è utile saperlo ma non mi interessano i soldi cosa vuoi dire ma io non sono colto qui a chiedere i soldi avevamo già fatto un depliant molto molto breve ma io sono venuto qui a dirvi un po la nostra storia se non vuole ascoltare non c'è problema esco subito per non togliere no 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 padre si segue e in due tre minuti lì bisogna essere più furbi che belli due tre minuti detto noi lavoriamo in questi paesi in questi campi mentre sto parlando quei tre minuti lui sta dando un'occhiata al depliant vedo che voi state lavorando molti paesi arabi musulmani certo e molti paesi non cristiani e la stragrande maggiore della nostra presenza e con i non cristiani mi dica padre mi dica abbiamo fatto mezz'ora don bosco don bosco attenzione è un patrimonio che grande responsabilità allora non ho detto niente su don bosco formation per il momento magari lo dirò dopo perché ho preso troppo tempo renato grazie don fabio grazie 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 e grazie a tutti voi anche a ciro collegato per questo primo giro di risposta alla domanda che fa eco a quello che ci diceva ieri sera don francesco quando parlava di comunità come una sfida una missione per tutti noi salesiani per il sociale non solo dove c'è una casa una comunità salesiana ma anche là dove c'è un'associazione dove c'è un APS un ente di terzo settore siamo chiamati a costruire comunità solidali è il tema di quest'anno ed è questo che avete raccontato qui rispondendo a questo mentimeter vedete qual è la parola che avete scritto di più quando vi ho chiesto di dire cos'è per voi comunità educativa pastorale nell'opera sociale salesiana corresponsabilità bene questo non mi basta ora vi chiedo di tornare su mentimeter con lo stesso codice con una nuova domanda vi chiedo cos'è corresponsabilità perché va bene va bene parliamo adesso tanto di sinodalità ha detto Don Fabio va bene comunità significa corresponsabilità ma se vi dovessi chiedere salesiani e laici corresponsabili nella missione salesiana quali parole o frasi massimo tre parole per frase colleghi a questo tema cosa significa corresponsabilità nella missione salesiana salesiani e laici abbiamo qui in sala lo dico anche ai nostri relatori panelist abbiamo anche dei giovani che hanno fatto esperienza di comunità educativa pastorale in altri paesi sono stati in spagna sono stati in albania e hanno vissuto cosa significa comunità educativa pastorale anche fuori dall'italia e abbiamo anche realtà dicevamo prima associative che non hanno l'esperienza della comunità educativa pastorale con la comunità dei salesiani Don Bosco presente di tutti i giorni ma sono chiamate a vivere questa corresponsabilità e questa comunità cosa significa allora ecco alcune parole insieme comunione comunione formazione attenzione questo partiremo proprio da questo adesso relazione partecipazione fiducia reciproca impegno condivisione delega confronto condivisione ecco che la relazione sta prendendo il centro dello schermo ma continuate a rispondere adesso torniamo facciamo un giro al contrario e partiamo questa volta da Don Fabio così può riprendere il percorso che ha iniziato perché non c'è ancora parlato del Don Bosco Formation invece come diceva Cristiano prima c'è molta curiosità perché vedete quante volte sta tornando la parola formazione allora prima di darti la parola Don Fabio volevo leggere questa frase che ho trovato nel quadro di riferimento della pastorale giovanile dove già si parlava della CEP nelle opere sociali salesiane e c'è questa frase che trovo molto di ispirazione per tutti noi la convivenza con i giovani in situazioni esistenziali precari e fragili interpella i salesiani e i laici per una conversione personale e istituzionale cosa significa questa conversione? bene allora continuiamo dove abbiamo lasciato però vorrei iniziare proprio da questo qui la conversione la conversione è un atteggiamento non è un'azione cioè la conversione significa che io sto camminando e quello che incontra io lascio che mi interroghi e sono nel cortile prendiamo una così un'immagine no? circondare i ragazzi la mia disponibilità probabilmente ad un certo punto a qualche d'uno quando quella presenza è continua e consistente probabilmente ti dirà professore professoressa don sor hai cinque minuti quella domanda di quel ragazzo di quella ragazza hai cinque minuti io posso dire ah no eh ah no eh non si può adesso mica ho tempo da perdere ma si può dire ma certo e sappiamo bene che poi si aggiunge uno zero dopo il cinque diventano cinquanta minuti e probabilmente tu non devi fare niente che ascoltare cioè il convertire significa io lasciarmi interpellare là dove io libero attenzione liberamente ho deciso di appartenere però questo è un cammino è un cammino allora di lì passo al tema della formazione la formazione comprenderla non come una consegna di informazione ma la formazione concepirla con la persona che decide di essere formata al centro affinché quello che io ricevo mi trasformi formazione informazione trasformazione dicevo che in Europa abbiamo questi sei paesi con cui ho iniziato no? cosa sta capitando? sta capitando che questi centri stanno dicendo noi grazie a Dio stiamo andando bene c'è anche una certa contaminazione positiva vediamo cosa sta facendo Spagna Raffaella ha accennato a questi a questi posti no? bene adesso però stanno dicendo non basta condividere l'informazione perché non cerchiamo di coordinare non solo condividere le buone pratiche e coordinare cosa significa? Significa cogliere ed è qui dove credo che sia una cosa molto interessante che è stata chiesta poi il rettor maggiore mi ha detto Fabio vedi un po' cosa puoi fare qui stiamo notando che a livello o delle ispettorie o a livello nazionale abbiamo dei salesiani e laici che stanno hanno la responsabilità di accompagnare processi formativi a livello locale a livello ispettoriale a questa gente qui che ha la responsabilità di accompagnare processi perché non farla incontrare? allora quelli in Spagna che hanno la responsabilità di portare avanti questi processi quelli in Italia quelli in Francia Portogallo Germania Belgio perché non promuovere uno spazio dove questa gente può ascoltarsi può dire noi stiamo accompagnando processi formativi ma anche noi abbiamo bisogno di approfondire la nostra identità allora il Don Bosco Formation non è ecco un'altra struttura no non è una struttura è semplicemente uno spazio offerto a coloro che stanno chiedendo di essere accompagnati perché chi accompagna sta curando agli altri ma chi cura a quella persona che sta accompagnando allora cosa abbiamo fatto? la prima cosa è cosa vogliamo vedere esattamente qui e per due anni naturalmente la pandemia il conflitto ucraino ha rallentato un po' il processo va bene non c'è problema abbiamo prodotto la carta di navigazione navigational chart e abbiamo dato il nome DBF EU perché? perché bisogna vedere fra dieci anni cosa capiterà e dieci anni è domani carissimi dieci anni fra dieci anni è domani allora abbiamo il DBI il DBUN abbiamo il Don Bosco Formation che mette insieme persone di altissima competenza di grande dedicazione che vogliono approfondire ancora di più il tema del carisma in dialogo con le sfide che abbiamo oggi per poter alimentare irrigare sostenere i processi a livello locale perciò il Don Bosco Formation non è che va a organizzare un corso per l'insegnante di una scuola bene lasciamostra non c'è problema di una scuola tot no è lì è lì grazie alla fama è lì per aiutare aiutare coloro che stanno aiutando abbiamo fatto un primo incontro ve lo dico perché questo interessa interessante perché abbiamo chiamato i responsabili della scuola Italia Spagna Portogallo i responsabili dei centri nazionali c'era Roberto Dal Molin Stefano Mascazzini Francesca Napoletano dall'Italia Pepe Nunes Irune e due dal Portogallo quando abbiamo detto i coordinatori dei processi formativi nella scuola hanno detto ma no calma perché la scuola soltanto perché non allargare la visione perché questa formazione è integrale holistica perciò concerne tutte le persone che sono coinvolte nei processi formativi e il titolo che hanno il tema che hanno scelto io il mio lavoro e di accompagnare è il sistema preventivo e competenze allora vedete come il tema della formazione che favorisca la rete oggi deve dialogare con il tema delle competenze perché perché la complessità della nostra risposta deve trovare le persone competenti qualche volta ci sono dei salesiani e più delle volte non ci sono dei salesiani competenti ecco allora vedete come questa proposta che sarà poi avrà una metodologia particolare per i laici che non possono venire ogni mercoledì a fare un incontro a tutta l'Europa perciò bisogna pensare una metodologia che accompagni sarà aperta una proposta aperta per 30 persone perché per 30 non per 300 perché questi processi se devono toccare il cuore e la mente della persona devono essere processi centrati sul cammino personale di ognuna e di ognuno l'idea che si sta maturando adesso che io sto accompagnando e coordinando è come questa metodologia la trasporteremo nell'Europa del Nord come questa metodologia la discuteremo con la Università Pontificia Salesiana che sta pensando ad una proposta di formazione nella salesianità nel campo allora vedete come l'esperienza sta crescendo quanto sta crescendo il desiderio che stiamo sperimentando noi qui oggi in questo campo qui ecco allora io vorrei semplicemente adesso che mi hai dato l'opportunità dire due o tre cose come riflessione personale di tutto quello prima di tutto vorrei iniziare questa restituzione del documento è una restituzione alla luce di un cammino fatto può essere più preciso sì ma nessun documento è perfetto nessun documento solo la parola di Dio tutto il resto è relativo però è una restituzione di un cammino che io suggerisco che voi lo studiate poi si trovano delle cose che non vanno io per esempio ho già discusso con Francesco guarda c'è questo punto quello punto Fabio certo lo discuteremo lo vedremo insieme perché perché è una diciamo così una piccola fotografia di quello che sta capitando ci sono delle cose molto positive ecco una riflessione personale che vorrei terminare tutto il tema della centralità dei giovani questo per noi è chiaro però attenzione attenzione non possiamo assolutizzare la centralità dei giovani senza con quella centralità non mettiamo anche la cura di noi stessi io ho fatto la vista canonica nell'ispettoria Francia-Belgio-Sud dove c'è una bella esperienza con Val d'Occò Jean-Marie Petticler che è stato anche il rettore maggiore l'ha citato nella lettera Francia stanno facendo un lavoro anche molto bello questo potrebbe essere anche un'altra opportunità e loro hanno fatto auditing la formazione dei laici nelle nostre scuole in Francia abbiamo la TUTEL che raccoglie 80 scuole tra Sdb e figli di meosiatrice e poi c'è l'associazione Val d'Occò l'emarginazione che con essa sono confederati un centinaio di associazioni in Francia che vogliono contaminarsi con il carisma salesiano bene questo auditing fatto da un gruppo di persone esperte in questo campo ha detto voi salesiani vi ammiriamo è uscita fuori dalla ricerca che voi i ragazzi li mettete al centro però attenzione curate chi cura i ragazzi ieri Massimo Don Massimo ha fatto accenno al burnout e al turnover attenzione curate e curare coloro che accompagnano i giovani non è semplicemente un fitness non è semplicemente un physical well being come si dice in inglese ma è l'aspetto anche delle persone che veramente sentendosi a casa quella casa la costruiscono la sostengono e la riempiono di amore e di libertà il capitale umano che noi abbiamo bisogna accompagnarlo bene perché perché i laici che collaborano nella missione salesiana hanno un'altra parte della loro vita che è le loro famiglie la loro storia personale ed è bello che in questo tema della formazione mettiamo alla centralità del ragazzo la centralità delle persone che fanno della CEP un'esperienza dinamica umanamente ricca segnata dallo spirito di famiglia mi fermo qui grazie grazie Don Fabio e poi vediamo se dopo questi giri di risposte ancora avremo modo di dialogare ancora con chi ci sta seguendo da casa e chi è qui in sala grazie davvero e adesso chiedo a Ciro che è collegato con noi ecco Ciro per le polisportive giovanili salesiane cosa significa corresponsabilità salesiani e laici ma innanzitutto credo che la parola corresponsabilità presupponga un concetto alla base che è quello di sentirsi parte di un tutto sentirsi parte di un tutto perché ci si sente chiamati a condividere un progetto un progetto di vita un progetto umano un progetto anche di promozione sportiva la corresponsabilità per noi ma credo che un particolare per tutte le esperienze associative oggi vive anche un momento di particolare difficoltà legato alla crisi del volontariato in questo senso la 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 possibilità di individuare nuove risorse che aiutino le associazioni a portare avanti le proprie mission a lavorare in rete si fa sempre più più urgente ecco noi come diceva anche Don Fabio prima dovremo implementare questa che è la nostra opera di contaminazione per poter trovare ed individuare sempre più soggetti che possano aiutarci in questa in questa opera tempo fa il ministro Bode il ministro dello sport in un suo intervento diceva che anche lo sport necessita di vocazioni sportive nel senso di soggetti che ogni giorno possano innamorarsi ovviamente della della pratica sportiva e contribuire con la loro opera a portarla avanti ecco io credo che per essere corresponsabili ci sia si sente innanzitutto il bisogno di essere chiamati e a condividere credo anche che corresponsabilità nel nostro caso ma credo ripeto le associazioni sono nelle loro dinamiche un po' tutte uguali presuppongano quelle che siano diciamo delle responsabilità innanzitutto sociali responsabilità ovviamente nei confronti di un impegno che si è assunto per cui è chiaro che la corresponsabilità quotidiana che riguarda le PGS è una corresponsabilità che attiene non soltanto a quella del presidente nazionale che se ne assume un po' di più ma ovviamente a quelli che sono i dirigenti del territorio a quelli che sono ovviamente i dirigenti delle associazioni agli all'educatori è una filiera di corresponsabilità noi però dobbiamo essere capaci a mio parere di costruire delle associazioni anche sul territorio che siano delle comunità sportive in questo senso ossia non soltanto dei momenti come dicevo anche prima di offerta di servizio ma costruire associazioni che siano soprattutto delle grosse comunità familiare dove i ragazzi si sentano a casa e trovino ovviamente poi nell'attività sportiva il completamento di una ovviamente il soddisfacimento di un'esigenza particolare siamo stati impegnati tantissimo in questo periodo a portare avanti i progetti sul territorio noi veniamo fuori da tre anni di pandemia che ha decretato ovviamente lo stop alle attività sportive e credetemi è stato molto molto difficile in quel periodo poter come dire aiutare il territorio aiutare i ragazzi a coltivare la speranza di una vita normale anche l'emergenza dei profughi dell'Ucraina ovviamente ci ha visto impegnati a offrire anche una copertura assicurativa del tesseramento gratuito proprio per venire incontro alle esigenze di questi nostri amici abbiamo portato avanti dei progetti legati all'inclusione in particolar modo c'è un progetto che si è concluso qualche tempo fa che si chiama PGS sì questo sì forte sta per sport inclusivo dove abbiamo voluto ribadire davvero che lo sport è una pratica accessibile davvero a tutti per cui ecco noi crediamo questo innanzitutto che la corresponsabilità significhi innanzitutto cogliere quella che è il cambiamento dell'attualità non possiamo essere responsabili di qualcosa se non riusciamo a cogliere quello che è il tempo in cui la nostra opera viene portata avanti per cui anche qui ci siamo interrogati tantissimo su quella che è la nostra proposta culturale sia a distanza di anni possa ancora attecchire in maniera efficace per cui ci siamo messi un po' in crisi rispetto a quelle che sono le nostre responsabilità facendoci anche guidare da un gruppo di docenti dell'Università Pontificia Salisiana tra cui anche il professore apocato Andrea Farina che Don Fabio prima citava ecco stiamo provando davvero a non soltanto a contaminare e quindi ovviamente a cercare nuove risorse che possano darci una mano a portare avanti questa questa attività complessa che è l'attività sportiva ma nello stesso tempo stiamo cercando di non trascurare per nulla quella che è quella che poi il riferimento delle nostre responsabilità ossia la nostra identità e credo davvero che d'accordissimo con quello che sosteneva prima Don Fabio ovviamente per poter mettersi al servizio dei giovani c'è bisogno ovviamente secondo me anche di mettersi un po' in crisi rispetto alla forza della nostra vocazione di stare accanto ai giovani e la formazione diventa per noi un momento fondamentale per come dire proprio per far sì che i nostri dirigenti i presidenti ovviamente dei comitati possano davvero svolgere un servizio sempre più confacente a quelle che sono le esigenze del territorio ecco e credo soprattutto che questa esperienza di rete che ci sta accompagnando sia con Salisani per il sociale che anche diciamo con il TGS e il CGS nella rete PGS possa essere soltanto per noi un momento di esplosione di identità ovviamente un momento di grandissima ricchezza un momento di contaminazione anche diciamo nelle diversità degli obiettivi statutari però ecco io credo davvero che la corresponsabilità vada vissuta in questa dimensione in una dimensione soprattutto di come dire di responsabilità di quello che ci è stato tramandato e di poterlo ovviamente portare avanti nel miglior modo possibile ecco tra quelle che sono soprattutto le realtà che non provengono dalle dalle nostre case e dei nostri oratori ovviamente quindi che hanno vissuto appieno in questo senso la nostra storia quella è la sfida più importante è la sfida più ambiziosa ma credo che attraverso un'opera di corresponsabilità forte ecco possiamo possiamo giocarla in maniera serena grazie Ciro grazie per averci dato il punto di vista delle polisportive giovanili salesiane sulla corresponsabilità adesso chiedo a Lorenzo di continuare questo racconto portandoci il punto di vista e l'esperienza del turismo giovanile sociale allora innanzitutto la prima cosa che mi veniva in mente era che cosa significasse il termine corresponsabilità la prima parola che mi viene in mente è quella di di capire che cosa è proprio il termine corresponsabilità essere appunto responsabili ok essere responsabili insieme e è quello di riconoscersi perché non dobbiamo confondere tra virgolette i ruoli se così si può dire perché da un salesiano non ci possiamo aspettare che sia un progettista un fundraiser un un economo un un ingegnere un architetto nello stesso tempo dai laici non ci possiamo aspettare lo stesso ruolo che compete compete ai salesiani quindi il discorso di corresponsabilità è un po' fa anche riferimento a tante parole che sono state scritte quelle della comunione quello del dialogo quello di della collaborazione e è proprio su proprio su è anche quello dell'accompagnamento infatti proprio come come TGS mi piace sempre sottolineare questo questo termine appunto quello dell'accompagnamento che anche a livello nazionale abbiamo abbiamo effettuato quando cinque anni fa si insedia si è insediato il nuovo il precedente il precedente consiglio direttivo fece una una scelta molto molto ambiziosa all'epoca cioè quella di ringiovanire di molto il consiglio direttivo nazionale affidando la la presidenza all'epoca io avevo venticinque anni ma anche alla presenza di altri di altri ragazzi under di altri ragazzi under 30 e qui ad esempio c'è Cosimina ma ci sono anche tante altre figure di adulti di laici che hanno accompagnato questi ragazzi dal punto di vista della formazione della loro esperienza per fare in modo che la loro esperienza di guida di di un'associazione a livello nazionale e a livello anche locale non fosse un'esperienza traumatica ma che potessero loro stessi formarsi oggi con le elezioni dello scorso anno il TGS che è l'associazione più piccola tra le realtà salesiane è forse anche dovuta al bilancio più piccolo quindi si può permettere anche queste tipologie di scelte a forse il consiglio direttivo nazionale più giovane delle associazioni di promozione sociale sicuramente della storia delle associazioni salesiane ma forse probabilmente anche delle associazioni di promozione sociale a livello nazionale oggi l'età media del direttivo nazionale è di 31 e di 31 anni con 4 under 30 e 3 over 30 ovviamente accompagnati dalle presenze dei delegati del CNOS e del CHOFS questo cosa significa che ieri pure sentivamo parlare della difficoltà della responsabilità dei giovani insomma di dare opportunità opportunità ai giovani ecco quello che io vedo nel nel TGS è proprio quello di poter fare in modo di responsabilizzare i ragazzi perché noi riusciamo tramite i progetti ad avvicinarci e ad aiutare con salesiani per il sociale con il CGS i ragazzi più poveri con il supporto extrascolastico con le attività del tempo libero in particolare il TGS nello stesso tempo le opportunità lavorative riferite alle progettazioni sono un obbligo riferite a ragazzi a giovani una scelta politica che abbiamo effettuato quella di fare in modo che chi lavora per il TGS siano dei giovani che sia probabilmente alla prima opportunità lavorativa e a livello nazionale stiamo cercando con tutte le difficoltà col fatto che siamo un'associazione nazionale più piccola quello di fare in modo di avere questo continuo ricambio io oggi ad esempio lo sa benissimo lo dico sempre sono non continuerò l'esperienza come presidente del TGS perché alla fine del mandato che sarà tra tre anni perché penso che ci sia sempre bisogno del cosiddetto ricambio generazionale che la persona che guida un'associazione possa fare in modo di incidere insieme al proprio consiglio direttivo per un periodo ma che non sia l'associazione ingabbiata in quella presenza e in quella tipologia e in quella tipologia di carisma oggi abbiamo ragazzi nonostante questi cinque anni c'è stato il runes c'è stato il covid c'è una canzone di Vasco Rossi che dice io sono ancora qua noi siamo ancora qua quindi cioè nel senso che nonostante siamo dei ragazzi riusciamo abbiamo portato comunque avanti l'associazione cioè abbiamo un ragazzo che si occupa del del sito che ha 28 anni dal punto di vista di volontariato sempre intendo nel consiglio direttivo abbiamo un ragazzo che si occupa della tesoreria che ha 25 anni abbiamo Silvia che è qui insieme a Mina che si occupa di tutta la parte di tutta la parte formativa e così e così via abbiamo un ragazzo che conosce quattro lingue e che si occupa del Don Bosco Judnet del Don Bosco Judnet per noi quindi quando immagino il termine di corresponsabilità in un'associazione piccola in una realtà piccola come la nostra è quello appunto proprio dell'accompagnamento nelle opportunità non solo di lavorative e di protagonismo all'interno delle associazioni locali ma anche quello di un protagonismo effettivo non solo nell'organizzare l'attività ma proprio nei ruoli dirigenziali di un'associazione si può fare perché penso che se abbiamo superato 5 anni con tutte le difficoltà che ci sono state in una realtà comunque complessa come quella della nostra oggi che forse si ipotizza meno problematica rispetto ai 5 anni passati si può fare anche sicuramente per il futuro grazie Lorenzo per averci portato questa esperienza di corresponsabilità salesiani e laici e laici giovani anche in questo come turismo giovanile sociale adesso chiedo a Cristiano di raccontarci invece l'esperienza dei cinecircoli giovanili socioculturali grazie grazie io non sono non sono vecchissimo però rifletto più degli altri vedete e quindi ho un po' di vorrei partire dalla mia esperienza di corresponsabilità salesiana considerando che ho fatto un po' di conti da 33 anni non ne ho 33 ne ho 43 da 33 vivo nell'ambiente salesiano vivo l'ambiente salesiano quindi un po' l'ho sperimentata sulla mia pelle la mia esperienza parte dalla scuola dove sono sempre stato affascinato dai più grandi che si prendevano cura dei più piccoli li facevano sentire accolti anche in un ambiente istituzionale come quello scolastico da qui poi attraverso la formazione i percorsi nel movimento giovanile salesiano i campi scuola si è sviluppato anche un po' quell'atteggiamento di dire perché non puoi ridare anche quello che hai ricevuto quindi per me la corresponsabilità parte da questo da lì poi è maturato l'impegno associativo e anche la vocazione di salesiano cooperatore e quello che ho sempre notato anche nel ciò che mi ha spinto a impegnarmi è stata la fiducia che mi veniva concessa nell'ambiente in cui operavo una fiducia di cui forse non ero consapevole però con gli anni ho capito di che cosa si trattava programmare insieme dividersi ruoli svolgere il compito e soprattutto verificare i risultati questo mi è sempre mi è sempre stato insegnato alla fine delle attività mettere in luce gli aspetti positivi quelli negativi le opportunità e le sfide l'analisi SWOT detta in maniera scientifica il tutto però senza mai sentire addosso la pressione del controllo però senza neanche sentirmi abbandonato a me stesso soprattutto quando non ero in grado di affrontare certe situazioni o di prendere delle decisioni opportune oggi vedo spesso da parte degli adulti mi ci metto anche io dentro un po' di difficoltà a fare questo nei nostri ambienti perché certe volte vedo che si tende di più a indirizzare i giovani dentro dei cammini stabiliti limitando la corresponsabilità e confondendola con l'esecuzione di compiti senza un vero e proprio accompagnamento e coinvolgimento a tutto tondo che però deve lasciare libera anche la creatività e soprattutto la possibilità di fallire questo ci un po' nella nostra mentalità di di super efficienza a volte ci condiziona avere paura diamo un compito a qualcuno che questo fallisca ma poi cosa succede se non va bene questo perché ci siamo dimenticati della parte di accompagnamento e della parte soprattutto di verifica dopo di quello che non è andato bene e anche di quello che è andato bene quindi la vera corresponsabilità salesiani laici che ho vissuto è stata perché sicuramente ho incontrato delle persone illuminate nel mio cammino sempre che hanno accettato questo rischio di lasciarmi fare di non temere che i giovani non siano all'altezza perché da una parte l'educatore pretende totale fiducia dice tu devi fidare di me però spesso ho trovato fatica a ricambiare questa fiducia d'altra parte quello che abbiamo sperimentato e anche penso molti di voi se siete qua è quello che ha fatto Don Bosco che non ha preso teologi vescovi e cardinali per fondare la congregazione ha preso i ragazzini del suo oratorio quelli che riteneva in grado e con questi ha sfidato ha sfidato il suo tempo e ha sfidato anche le resistenze della chiesa della chiesa di Roma ho letto qualche tempo fa un documento che Papa Francesco ha scritto parlando in America Latina però ha detto una cosa che riguarda anche noi il primo sacramento quello che suggella per sempre la nostra identità e di cui dovremmo essere sempre orgogliosi è il battesimo nessuno è stato battezzato prete né vescovo ci hanno battezzati laici e quello è il segno indelebile che nessuno potrà mai cancellare questo penso ce lo dobbiamo ricordare adesso chi ha ruoli di responsabilità che non dobbiamo essere manager o peggio ancora tagliatori di teste amministratori delegati che arrivano ho capito tutto tu fuori tu dentro ma deve essere dobbiamo essere il ruolo di responsabilità un padre o una madre che accompagna segue e soprattutto amministra un bene che non è suo ma che gli è stato affidato e di cui dovrà rendere conto spesso vedo che i primi che non si sentono accolti sono gli stessi dirigenti salesiani o laici delle opere e delle comunità che dovrebbero invece essere i padri o le madri ci siamo chiesti quanto siano adeguati o si sentano adeguati in certi ruoli spesso sono accompagnati come diceva Don Fabio le persone che si curano degli altri sono accompagnate e formate o vengono lasciate al proprio destino in secondo luogo i corresponsabili anche loro si sentono accolti compresi anche nelle esigenze quotidiane perché la comunità prima di tutto è casa non è un posto di lavoro luogo di azione l'educatore è laico religioso si deve sentire toccato impegnato e coinvolto non spremuto e non sfruttato anche se per il nobile fine dell'educazione Don Fabio ha detto parato di burnout spesso nelle nostre opere questo avviene e tornando alla lettera del rettor maggiore pagina 33 dice una cosa che mi è piaciuta molto so che voi cari laici alla fine delle vostre giornate intense tornate a casa per continuare il lavoro nelle vostre amate famiglie e spesso sacrificate parte del vostro tempo personale per rispondere alla chiamata dei giovani dell'opera salesiana so anche lo dice il rettor maggiore che in alcune occasioni alcuni di voi hanno vissuto momenti di incomprensione poi dice vi incoraggio ad andare avanti sapendo che nella certezza della vocazione ricevuta troverete sempre la forza per un dialogo sincero che vi aiuti a crescere e maturare ora non voglio correggere il rettor maggiore però gli vorrei aggiungere una cosa dal laico che ha sperimentato tante volte questa situazione che non basta la certezza della vocazione ricevuta ci vuole anche il rispetto della vita laicale perché da una parte è giusto volere pretendere laici significativi che abbiano il lavoro la famiglia l'impegno il parrocchia il servizio in oratorio però poi si pretende che siano disponibili H24 mattina pomeriggio sera sabato domenica la sera il rosario poi se mancano una riunione eh no però sei mancata la riunione oppure peggio ancora se ti dico guarda che io per andare a quel viaggio ho speso 100 euro eh no però sei attaccato ai soldi la corresponsabilità funziona anche così mi permetto quindi di di dire che spesso facciamo conto su persone che non tutte hanno le spalle coperte per permettersi la disponibilità H24 ma non deve essere così perché altrimenti avremmo fatto la scelta religiosa con i voti e soprattutto la vita donata H24 alla causa concludo citando di nuovo Papa Francesco che dice non servono manifestazioni miracolose non potenza ma coerenza non parole ma preghiera non proclami ma servizio voi la chiesa profetica incomincia a servire e stai zitto grazie 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 Cristiano grazie Cristiano ho visto anche che si parlava molto in sala non solo perché stiamo concludendo ma perché avrei toccato qualche corda sicuramente che che chi ci ascolta anche da casa che ci sta seguendo Ciro collegato insomma tutti gli amici in streaming sicuramente tutto questo dialogo di questa mattina ci sta aiutando a riflettere allora concludiamo dove abbiamo cominciato cioè compadre Raffaele abbiamo sentito anche dai racconti Don Fabio che nell'America avete un'esperienza pluriennale decennale di questo centro di formazione salesiani e laici insieme sulla spiritualità al carisma salesiano ora tu conosci bene anche molto l'Italia quest'anno ci hai accompagnato ci hai regalato anche un capitolo nel documento che tutti qui abbiamo ricevuto organizziamo la speranza 21-25 allora cosa ci puoi dire in conclusione sulla corresponsabilità salesiani e laici nelle opere sociali salesiane qui in Italia grazie grazie sì fra tante sfumature che si potrebbero scegliere io vi propongo quella della presa delle decisioni la corresponsabilità come presa delle decisioni nelle nostre opere sociali non soltanto in Italia ma in tutto il mondo è vitale perché perché che cosa è che facilita la presa delle decisioni prima di tutto come voi dicevate ci sono i ruoli ci sono i direttivi nelle nostre organizzazioni e diciamo l'autorità ma che cosa offre l'autorità nelle nostre organizzazioni sociali salesiane non è soltanto la disegnazione dell'ispettore a un direttore e il conoscimento e l'esperienza perché a volte se noi non viviamo come dicevamo al principio lo spirito della CEP e come ci diceva Don Fabio che è la capacità che noi abbiamo come chiesa tramite gli strumenti come il Pepsi e gli altri progetti che abbiamo di discernere quelli che prendono le decisioni che nella maggior parte siamo i consacrati i salesiani perché nella maggior parte siamo noi diciamo i direttivi facciamo una brutta figura e non soltanto facciamo una brutta figura mettiamo a rischio la sostenibilità dell'opera e tra l'altro anche corriamo il rischio di stancare le persone di stancare i processi e di non stabilire un ordine normale al funzionamento della nostra opera salesiana quello vuol dire che la presa delle decisioni deve essere collegiale non è un potere non è un'autorità è la raccolta della informazione che ci offre la possibilità di valutare tutta l'azione pastorale direttiva e amministrativa dell'intera opera è così in un esercizio congiunto di discernimento scegliere quali sarebbero le competenze principali da rafforzare sia nei laici che nei salesiani non tutti ci dobbiamo formare allo stesso livello ma tutti dobbiamo essere consapevoli di questa necessità di formarci e quando tu ci parlavi di questa esperienza che c'è lì nel continente americano questa esperienza è nata come la necessità di formare salesiani i laici nella salesianità ma anche la salesianità è soltanto un asso principale di questa formazione un asso principale che ci offre l'identità ma non dobbiamo scordare che ci sono delle competenze che ci mettono in relazione con il nostro progetto pastorale salesiano nelle opere sociali quindi qua per esempio in Italia abbiamo la riforma del terzo settore quelli che prendono le decisioni devono conoscere il terzo settore un consiglio ispettoriale deve essere ben assessorato ben consigliato sul terzo settore perché questa sostenibilità questa significatività di questo ambiente di questo settore delle opere sociali sia a livello locale sia a livello spettoriale dipende di questa presa delle decisioni che ripeto dipende della conoscenza del settore normativo al quale noi rispondiamo e al coinvolgimento dei ruoli delle persone di tutta la CEP per portare avanti e per difendere questo carisma che è stato posto nelle nostre mani grazie grazie Raffaele questo applauso è per te per tutti quelli che ci hanno accompagnato questa mattina io credo che non ci sia tempo per domande adesso non so Don Francesco sì qualcuna sì forse qualche domanda c'è vediamo poi abbiamo tempo per il break prendiamo forse una o due domande se ci sono dal pubblico qui ci sono anche su facebook domande le vogliamo leggere se ci sono sì ma se c'è qualcuno che vuole alzare la mano vi vengo incontro vediamo quale c'è online ecco qua domanda le nostre scuole le nostre scuole di formazione professionale i nostri cortili sono spazi di incontro di ritrovo altre volte di smarrimento disorientamento a causa della propria storia familiare dunque la domanda è quanto le nostre scuole professionali oggi possono diventare luoghi di educazione al talento alla speranza alla felicità è possibile credere ancora in questo? ci chiede Giovanni altre domande? Don Francesco io volevo fare innanzitutto grazie volevo so che siete stanche quindi sto abusando un po' della vostra pazienza però è importante la presenza dei presidenti nazionali proprio per ribadire anche la nuova conformazione della rete sociale salesiana dei presidenti per il sociale con l'ingresso di TGS CGS PGS la nostra rete si arricchisce ma cambia anche un po' la sua conformazione sul mondo salesiano e sul mondo del terzo settore sul terzo settore come anche Rafa ci ricordava e siamo adesso diventato una rete molto più grande numericamente e bisogna capire come coordinarla insieme con le altre realtà associative questo si innesta anche in un discorso di delegato CNOS per cui probabilmente questa figura che è importante e centrale come è stata ricordata va ricompresa in questa nuova configurazione ma la domanda è sul versante salesiano e quindi chiedo ai presidenti nazionali cosa chiedono alle CEP locali rispetto al loro operato alla loro visione alle loro prospettive grazie Don Francesco allora iniziamo da questa rispondere per prima così io purtroppo devo abbandonarvi prego iniziamo da Ciro e dai presidenti e poi anche Don Fabio e Raffer se volete rispondere alla prima domanda prego Ciro scusatemi perché poi davvero lo scherzo del destino ha voluto che mio figlio nascesse lo stesso giorno di mia moglie per cui insomma la corresponsabilità familiare mi porta anche diciamo a non diciamo a prestargli le dovute attenzioni allora io dico questo per guidare un'associazione c'è bisogno di una vision io continuo a dirlo una vision che come dire non guardi all'oggi ma guardi al domani una vision che voglia costruire e come dire mantenere in vita il nostro obiettivo è quello di continuare a far sì che le nostre associazioni la nostra rete associativa possa vivere il più lungo possibile possa come dire sempre più crescere ciò che io chiedo pretendo e continuo come dire a ad esigere dai miei dirigenti è quello soprattutto di avere un contatto con il territorio il territorio è la sfida più difficile per noi il territorio richiede attenzioni continue se non viviamo il territorio se non abbiamo dei dirigenti sensibili se non abbiamo dei dirigenti attenti e soprattutto dirigenti posti in atteggiamento di ascolto noi non riusciremo mai a far crescere le nostre associazioni e ad intercettare quelli che sono bisogni e necessità del territorio le associazioni si vivono sul territorio a livello nazionale noi siamo bravi dobbiamo essere bravi a dare un coordinamento a dare delle indicazioni a creare come dire una strategia ma è sul territorio che si come dire si gioca la sfida più importante per questo io chiedo ai miei dirigenti di essere sensibili e trovare anche nell'ascolto quel mezzo per poter individuare come dicevo prima nuove risorse che possano aiutarci nella nostra opera noi da soli non andiamo da nessuna parte se con la nostra identità con il nostro carisma anche di laici impegnati in questo patto di corresponsabilità con i consacrati sappiamo costruire reti sul territorio allora la nostra opera come dire avrà un senso se invece noi continuiamo ad essere autoreferenziali a chiuderci noi stessi perché siamo i più belli perché abbiamo Don Bosco abbiamo la S siamo come dire salesiani ecco io credo che questo atteggiamento non ci porterà da nessuna parte quindi davvero sensibilità e ascolto debbano devono essere come dire le chiavi più importanti per poter entrare nelle esigenze del nostro territorio soltanto così noi costruiremo delle associazioni vive se poi invece vogliamo costruire delle associazioni che si presentano al cospetto delle assemblee per dire delle cose stupende ecco non credo che sia quello l'obiettivo che è la responsabilità a cui siamo chiamati e che ci siamo assunti ovviamente di fronte a tutti coloro ecco ci hanno ci hanno espresso la nostra fiducia quindi io credo che sia questo questa la vision che dovrà accompagnarci nelle nostre attenzioni al territorio quindi io vi ringrazio davvero di cuore per l'invito sono enormemente felice di poter condividere dopo tanti anni un'esperienza assembleare con la congregazione salesiana saluto e ringrazio su Francesca Scibetta che è la nostra referente nazionale per le figlie di Maria Osiliatrice che so essere lì presente in sala e soprattutto la ringrazio per il stancabile lavoro di accompagnamento ma credo che per quello che stiamo facendo con Don Francesco con Don Roberto con tutti in questo spirito di condivisione ecco non possiamo far altro che immaginare un futuro rosio in rete per tutta la nostra bellissima e ricchissima realtà associativa salesiana grazie Ciro grazie buona giornata anche in famiglia grazie per il tempo grazie grazie a voi grazie davvero di voi grazie adesso continuiamo con Lorenzo e Cristiano vi chiedo di essere questa volta molto brevi nella risposta perché abbiamo un programma molto articolato ancora da vivere quest'oggi quindi prego Lorenzo ok mi collego a quello che diceva prima Ciro con il termine con il termine ascolto forse già anche l'ho detto prima con il termine di riconoscersi in questo caso riconoscersi nelle identità delle varie realtà che stanno insieme all'interno di una rete che hanno una loro storia una loro mission e anche una loro vision regione ma prima ho letto con molta attenzione quello che poi presenterete domani come bilancio sociale e ora sia il CGS che il TGS sono all'interno del bilancio sociale con i loro con i numeri delle loro associazioni allora è anche importante far riferimento a questo voi avete come abbiamo come rete associativa nazionale circa 100 100 APS è importante dirsi che delle 100 delle 100 APS più della metà derivano dalla da TGS e CGS e come insieme si fa si fa si fa rete si fa rete associativa come insieme si va si va con i giovani poi con anche l'ingresso ufficiale nel 2023 delle polisportive giovanili salesiane il numero continua a crescere della della rete associativa anche perché non può essere rete associativa senza 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 quei numeri da soli non si va da non si va da nessuna da nessuna parte e è proprio è proprio questo quello che se mai come associazioni potremmo potremmo chiedere è quello di aiutarci nell'identificare all'interno di una di una rete quali possono essere i punti di intervento specifici delle varie delle varie realtà perché è importante all'interno di una grande rete riuscire anche a saper delegare le le responsabilità e le opportunità su alcune tematiche anche ad altre associazioni che fanno parte in quella rete cioè cosa voglio dire non è in questo caso facciamo parte di Salisani per il sociale non è solo Salisani per il sociale che andrebbe su tutti i temi ma sui temi che possono essere culturali possono andarci il CGS ci può andare il TGS sui temi sportivi in questo caso in questo caso la PGS ecco quello della costruzione so che Don Francesco ci tiene ci tiene molto a questa cosa di un proprio di un tavolo in cui si riesce non solo a programmare da un punto di vista progettuale perché è anche importante fare progetti ministeriali insieme fondamentale ma anche quello di saper costruire insieme quella che è la vision all'interno di una rete associativa facendo in modo che l'identità delle associazioni non venga fagocitata all'interno della rete ma venga valorizzata all'interno della rete stessa questo a livello nazionale ma anche a livello locale cosa chiediamo alle CEP locali di esserci perché spesso mi capita di dover giustificare la presenza del CGS all'interno delle CEP o di dover spiegare bonariamente a qualche direttore direttrice o incaricato di oratorio guarda che non ti stiamo chiedendo un favore a far parte della CEP però mi accorgo che questo non deriva dalla cattiva volontà deriva dalla mancanza di formazione e di conoscenza soprattutto delle generazioni più giovani di salesiani e salesiane che vengono a conoscere le associazioni se va bene perché ci si trovano dentro vengono nominati delegati senza sapere che cosa significa e quindi non hanno esperienza e vedono l'associazione come un qualunque ente esterno che usa gli spazi dell'opera quindi si deve partire da questo lo chiedo lo ribadisco se c'è questo si riprende la formazione di base sul dire chi siamo sicuramente è più semplice poi lavorare all'interno e anche evitare quei contrasti che derivano dal fatto che non ci si conosce grazie cristiano un rapido scambio forse su quella prima domanda che abbiamo letto soltanto vorrei dire che in ogni curriculum salesiano noi abbiamo la possibilità di evangelizzare il curriculum sia della scuola dell'opera sociale che del CFP che deve riflettere la realtà dei propri giovani e portare una proposta per loro di accompagnamento e dopo abbiamo anche la grande opportunità salesiana della casa del patio della chiesa dell'aula dove noi dobbiamo accompagnare e proporre delle belle sfide opportunità ai nostri giovani grazie Rafa e Fabio bene così allora concludo questo momento è stato lungo è stato intenso ci avete aiutato anche voi con le vostre domande con i vostri input e anche le vostre risposte che ci sono state in vario modo a quello che che ci hanno suscitato i nostri amici io sottolineo una cosa è tornato più volte questo tema della fatica degli operatori degli educatori e allora io posso dirvi che mi porto a casa questo diciamo come ufficio nazionale quindi anche come gruppo che è chiamato a questo servizio nazionale per le opere sociali salesiane questo campanello questo stimolo pungolo anche a veramente prenderci maggiore cura della formazione e dell'accompagnamento delle realtà territoriali e locali questo e faccio uno spoiler rispetto a quello che diremo domani perché domani lanceremo una proposta di formazione per operatori per progettisti per responsabili delle opere sociali salesiane lo spoiler è che alcune delle persone che sono qui e questo corso sarà aperto a tutte le reti associative cgs tgs pgs e padre raffaelle e don fabio sono tra le persone a cui abbiamo chiesto di aiutarci e di accompagnarci quindi grazie vi salutiamo con un applauso e anche per questo e adesso lascio la parola a don francesco che ci presenta il proseguimento della giornata grazie ancora a tutti grazie solo pochi minuti poi andiamo in pausa grazie ancora grazie grazie ecco la pausa è di un quarto d'ora scusate di 30 minuti quindi prima di lasciarvi insomma alla mezz'ora di meritata pausa volevamo spiegarvi in due minuti il lavoro che subito dopo il break ci sarà quindi non ritorniamo qui ma dopo il break andremo nelle sale al primo piano dove ieri alcuni comitati si sono incontrati ecco questa fase che vivremo nei comitati è anche importante perché ritorneremo sul documento che avete in cartella che avete negli shopper documento organizzare la speranza che è un documento che come abbiamo anche un po' ascoltato riflettuto è un documento che ha avuto una trafila molto interessante è un documento che raccoglie le linee condivise in Italia e adesso lascio a Riccardo che è del comitato tecnoscientifico che abbiamo conosciuto Riccardo Mariani di darci il mandato rispetto appunto al lavoro che ci spetterà nei vari comitati grazie Francesco buongiorno a tutti vado subito sul punto così non ci attardiamo lavoriamo su questo documento su due elementi centrali uno è un po' dentro i laboratori di gruppo saremo 5 o 6 laboratori adesso decidiamo ovviamente congiungeremo due gruppi per consentire come dire una numerosità sufficiente ad articolare una discussione un dialogo comune ora il tema sarà il documento cioè una riflessione intorno e noi la guideremo ovviamente ciascuno del comitato scientifico sarà presente dentro il gruppo a coadiuvare il lavoro affinché si riprendano le tematiche centrali di questo documento nella logica dell'alleanza tematico e valoriale che è stata anche a più riprese enunciata nei interessanti e anche stimolanti interventi di chi ha caratterizzato questa prima giornata in mezzo di lavoro dell'assemblea quindi una ricognizione sul documento e sugli aspetti centrali che lo caratterizzano da un punto di vista di questo tema dell'alleanza tematiche valoriale dentro il mondo che noi abbiamo affrequentato raccolto e soprattutto da cui abbiamo appreso molto e la seconda parte di questo lavoro laboratoriale che durerà circa un'ora e mezza sarà più dedicata alle cosiddette diciamo al tema del processo partecipativo così come descritto nel documento e le linee di indirizzo condivise dove ci concentreremo invece in maniera un po' più diciamo puntuale sulle linee di indirizzo condivise come strumenti di azione territoriale concreta dove ci chiederemo quali uno o due linee di indirizzo per ambito di sfida dentro ciascun territorio da far emergere come centrali anche come più sentite come svolgerle con chi svolgerle con chi affrontarle dentro il proprio territorio cercheremo di fare anche un esercizio diciamo così di maggior messa a terra di queste linee di indirizzo di condivise che richiamano un po' anche il concetto di vision che molto esemplarmente è stato poi citato anche da chi ha parlato poc'anzi con molta anche diciamo autorevolezza questi sono un po' i due punti i due spunti di lavoro che condurremo insieme vi accompagneremo a proposito di accompagnamento in questo momento laboratoriale quindi sarà una cosa molto come dire un piccolo esercizio di comunità tranquillo ma estremamente significativo interessante la luce della densità di quello che è avvenuto fino adesso grazie buona pausa grazie a tutti grazie a tutti